2, 1 Oltre 30.000 persone questa mattina a Firenze hanno preso parte alla ventesima edizione di Corri la Vita la corsa nata per sensibilizzare e raccogliere fondi contro il tumore al seno Un aneddoto di Santa Croce perché era Santa Croce Sì, la paura che Dante ci cascasse addosso Tante paure di tutti i generi, di avere la piazza vuota, la pezza piena Poi era stretta e lunga, allora non si vedeva vicino No, per quello tutte le paure dei neofiti Alla partenza tra gli altri presenti il sindaco Dario Nardella e le assessore della giunta Prima del via è stato esposto un grande striscione in solidarietà alle donne iraniane e alla protesta contro il regime Sul palco, al momento dello start, con la presidente dell'associazione Corri la Vita, Bona Frescobaldi Anche l'ex allenatore della Fiorentina ed ex GT della Nazionale, Cesare Prandelli Sul palco è intervenuta anche Drusilla Foer Grazie a tutti